Ciao a tutti, bentornati in questo video, spero che non si senta casino e robe varie perché ovviamente come ho visto praticamente, cioè nel senso ho visto che anche tanti di voi hanno vicini che rompono le scatole e quindi molto spesso vi lamentate, anche voi nei vostri video, nel fatto che c'è il vicino col martello plumatico, il vicino col trapano, il vicino, sì guardate, purtroppo a quanto pare vivere in un condominio è proprio una condanna da questo punto di vista, vorrei ritrovarmi tipo su una montagna isolata senza nessuno, soltanto io lì con la mia bella casetta, ma purtroppo non è possibile, quindi vi chiedo scuse in anticipo se doveste sentire alcuni suoni. Ci ho detto, questo è un null un po' misto, nel senso che per la prima volta nella mia vita ho ordinato, ho fatto un acquisto da Zalando e in più ci sono due piccolini acquisti made by Aliexpress, fatti da Aliexpress, quindi acquisti di Aliexpress dalla Cina con furore per l'appunto. E da che cosa iniziamo? Dai da Zalando! Iniziamo da Zalando, questi li mettiamo un attimo di fianco, vedete, uno e due. Ecco qua, a tal proposito c'è stata proprio un'interruzione, va bene, iniziamo con Zalando, come vedete mi sono agevolato ovviamente già nell'apertura per non stare 20 anni lì ad aprire. Allora, ho comprato delle scarpette semplici, 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 vi faccio un po' un intro in un certo senso del perché ho comprato queste scarpette, poi le vedrete. Allora, mi servivano delle scarpine abbastanza primaverili, comunque stive, di tela, che ho visto i miei video vecchi, molto probabilmente lo so già, poiché avevo già anticipato questa grandissima decisione, e dovevano essere delle scarpine di tela bianche, possibilmente che non costassero molto, perché comunque non avevo intenzione di spendere un prezzo esorbitante per delle semplici scarpe di tela che magari reggono una stagione e poi sono da buttare via. Quindi ho guardato prima su Amazon, ma i prezzi erano troppo alti, mi piacevano le superga, quelle con il pizzetto, soltanto che poi l'ho vista addosso, si vede tutta la carne sotto naturalmente, secondo me era qualcosa di osceno, quindi nisba. E allora mi sono direzionata su Zalando. Zalando ho trovato moltissime calzature estremamente convenienti, cose che non mi aspettavo assolutamente, e in particolar modo ho trovato queste scarpine del marchio Anna Field, va bene, mai sentito nella mia vita, ma ok, ci può stare. Le scarpine in questione, eccole qua, ovviamente le appoggio sul tavolo perché non sono mai state usate, hanno dentro la carta, sono uovi di zecca, altrimenti non lo farai. Le scarpine in questione sono le seguenti, vedete che sono delle scarpine estremamente semplici, di tela bianca, è un colore bianco puro, cioè non un colore bianco panna, ma proprio un bianco ottico, un bianco puro, molto bello. La trama, vedete che è leggermente diversa in corrispondenza della punta rispetto al resto della scarpa, cioè qui c'è una trama leggermente trasversale, qui invece c'è una trama più orizzontale, non presentano tacco o cose simili, c'è leggermente la suola un pochino rialzata, ma voglio dire neanche tanto, se avrò onestamente dei problemi per quanto riguarda la camminata o dolore alla schiena, ci andrò a mettere una piccola soletta rialzata che tra l'altro avevo comprato su Amazon e per il resto hanno dei dettagli appunto di questo colore, non saprei come definirlo, argentato, sì sicuramente argentato e sono estremamente leggere, quindi spero, vedi sono leggerissime, quindi ovviamente spero che siano comodi anche nelle lunghe camminate o cose di questo genere. Io le trovo molto versatili come scarpe. Anche secondo me, io ho intenzione per l'appunto di andarla ad indossare con dei vestitini, quando magari devo camminare per un periodo più protratto, quindi magari in vacanza o cose di questo genere, anche perché l'infradito dopo un po' comunque è scomoda, diciamo. E poi tu non le hai mai amate, quindi... No, non ho mai amato l'infradito, con l'infradito intendo comunque quei sandaletti che hanno la parte che avvolge, diciamo, la sezione posteriore del piede, naturalmente quelle chiuse e non quelle semplici tipo da spiaggia, perché non ci vado in giro. E comunque appunto non le trovo particolarmente comode, non le amo particolarmente, quindi d'estate tendo ad indossare tendenzialmente delle scarpe che abbiano comunque del tacco, soltanto che capite. Fare anche magari, che ne so, 10 km, 20 km con scarpe, con un po' di tacco, alla fine e per un periodo di tempo prolungato diventa un po' una sorta di atto masochista nei confronti appunto di se stessi, perché dopo un po' il piede fa male. L'ho sperimentato l'anno scorso in Svizzera e vi è sicuro che poi il piede faceva male. Ovviamente avevo portato delle scarpe con i tacchi per camminare, vabbè, un'intelligenza solita naturalmente. E nulla, queste qui appunto le vedevo bene con i vestitini primaverili, anche con i pantaloncini di jeans, cose di questo genere. E poi diciamo che il bianco è un colore che bene o male si adatta a tutto. Il fatto che comunque siano di tela mi fa ben sperare nella possibilità di effettuare comunque dei lavaggi alle scarpe stesse nel caso in cui si dovessero ovviamente un minimo esportare, cosa che purtroppo succederà. A tal proposito, se avete dei consigli su come lavare le scarpe, tipo queste qui bianche, scrivetemeli per favore nei commenti perché io non ho mai lavato un mio di scarpe anche perché tendenzialmente, voglio dire, non sono mai scarpe che si possono lavare così facilmente. Io invece chiedo un consiglio, se sapete, perché succederà anche questo, la gomma come si pulisce quando si macchia, perché difficilmente quando la lavi torna come prima. Peccato. Ecco, se ci sapete dare un consiglio in tal proposito è assolutamente apprezzato. Volevo parlare poi della politica dei resi di Zalando per l'appunto perché la trovo molto interessante. Aspettate che nascondo un numero d'ordine eccetera eccetera, sapete perché. Praticamente, voi semplicemente, e questa è una cosa che mi ha sorpreso perché non conosco altre aziende che abbiano questa politica, vi viene già dato all'interno del sacchetto come quello di prima scatola eccetera, l'etichetta di reso, dopodiché potete andare ad effettuare la procedura di reso online, ovviamente mettete i prodotti all'interno della scatola e potete scegliere per l'appunto come rendere il prodotto. La cosa che mi ha stupito è che i costi sono a carico loro, perché molto spesso, tranne Amazon, molte altre aziende presentano dei costi di reso che invece sono a carico del cliente stesso. Quindi questa è una cosa che mi ha stupito molto piacevolmente. Dall'altra parte una cosa che mi ha sempre stupito è il fatto che Zalando come azienda non ritira tra virgolette i soldi nell'immediato quando effettuate l'acquisto, ma li ritira dopo qualche giorno, abbiamo letto. E quindi anche questa è una cosa che mi ha lasciato piacevolmente sorpresa e che non mi aspettavo minimamente. Quindi da questa parte abbiamo le scarpette, sto notando che c'è un problema interno con la soletta che verrà risolto nel più breve tempo possibile, ma successivamente. Passiamo a questo punto con alcuni acquistini Aliexpress ovviamente. Che è perfetto per l'acquisto precedente. Bene. Ah, è una sacchetta! Una sacchetta porta scarpe. Ovviamente, guardate chi ci sono sopra. Topolino o Michi e Nimi o Topolina. E queste sono le classiche sacchette che potete utilizzare. Mi ricordo tipo quando facevo educazione fisica al liceo, c'erano le sacchette, mettevate le scarpe appunto per la palestra all'interno e fine. E queste le trovo molto comode, assolutamente perfetto per le scarpe, anche perché così almeno avete una sezione appunto apposita in cui le andate ad inserire. Non so come descrivervi la consistenza perché è particolare. Sì, è vero. Sembra semi-plasticato, però leggermente ruvido. Leggermente ruvido, ha una consistenza molto particolare, poi naturalmente andate a chiudere il tutto in questo modo. È una parte in naido, sicuramente. Naturalmente. E nulla. Questa mi sembra molto molto carina e penso proprio che le scarpine rientreranno perfettamente al suo interno. Ecco, immagino che il costo fosse comunque relativamente basso. Sì, intorno all'euro. Ah, non vi ho detto quanto costavano le scarpe? Scusatemi, ho comprato queste scarpe proprio perché costavano poco e nulla. Avevano un prezzo che si aggirava intorno agli 11-9 euro. Qualcosa del genere. Sì. E anche le spese ispezioni sono basse, sono 3 euro e 90, una cosa simile. Sì, pochissimo. Quindi in totale lo pagate veramente poco. Sì, 12 euro in totale. Sì, qualcosa tipo 13, molto poco. Comunque diciamo che se fosse in data dei cinesi l'avrei speso anche di più probabilmente. Mi sa proprio di sì. Esatto. E poi abbiamo questo qui, sto cercando ovviamente di coprire sempre il tutto, anche se già nascosto. Un altro pacchettino e vediamo che cosa si cela al suo interno. Abbiamo dei memo, memo stick, guardate quanto sono carini. Allora, provvediamo ovviamente ad estrarli. Dalla cosina in plastica, ovviamente l'ho già distrutta. Beh, guarda, non credo che sia un grave danno. E sono questi. Anche perché intanto poi si chiude, credo sì. Esatto, vedete, è così. Credo che sia lo dei filari di qua all'interno. Potete anche metterlo nell'agenda, penso. Sì. Quindi qui c'è questa sorta di orsetto, pelucino, cosino simpatico. Non so cosa sia esattamente, sembra quasi una marmotta. Io non ho deciso. Penso che era un orsetto, però obiettivamente l'ho deciso io. Diteci voi che cos'è, ognuno magari ci vedrà qualcosa di diverso. Qui invece abbiamo sempre lo stesso personaggino simpatico in varie occasioni, con un cuoricino, con un capellino tipo da compleanno, semplice, e con una mela in testa, stile, non lo so, gravità. Mela e gravità. Qui è ovviamente costato ancora meno, 30 centesimi. Ovviamente, però è molto carino. E va bene. Quindi abbiamo fatto appunto una serie di acquistini, secondo me molto carini. E diteci qual è il vostro preferito. A me personalmente piacciono molto le scarpette, anche questa, come posso chiamarla, sacchettina, porta scarpe, assolutamente promosso. E niente, a questo punto direi che ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.